Nella mattina sottierna, in Carini, i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito una finanza applicativa della custodia rotale in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di due soggetti responsabili di minaccia aggravata e porto e detenzione illegittima di arma comune da spara. Il procedimento scadulisce da un'antimità di indagine condotta dai militari della compagnia di Carini i quali hanno individuato gli responsabili delle sparatorie avvenute in Carini l'11 giugno e il 5 agosto scorso nell'ambito delle quali i due soggetti si erano visentevolmente esplosi dei corpi d'arma da fuoco in pieno centro per dei presunti debiti di carburante maturati nel corso del tempo. Il lavoro dei militari ha permesso di risalire all'effettiva responsabilità degli indagati seppur in assenza dell'effettivo di imprendimento delle armi grazie all'escussione dei vari testimoni nel corso dell'attività investigativa. Sono in corso ulteriori accertamenti di intesa con l'attività iniziale.